Il crano che suoneremo oggi si intitola Just the Closer World with Tea ed è una canzone religiosa, uno spiritual, spesso suonato dalle band di New Orleans nelle parate stradali, ma soprattutto durante i funerali per accompagnare la salva fino al cimitero. Ma qualcosa succede? Che una volta sepolto il defunto si ritorna festosamente in città a suon di marcia fino al locale più vicino per mangiare, bere, suonare e divertirsi fino alle prime luci dell'alba. Tra l'altro il nostro Luciano Invernizzi che canterà questo brano e che naturalmente suonerà il trombone è stato ospite di questa band, di questa famosa brass band di New Orleans, come potete vedere nella foto la Olympia Brass Band, Just the Closer World with Tea. Invernizzi che canterà il trombone è stato ospite di questa band, e che necessità di fare la band, Sous-titrage ST' 501 ... 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